L'incubo terrorismo è tornato ancora una volta a spaventare il mondo occidentale, in seguito al terribile attentato di Barcellona dello scorso 17 agosto. Anche nelle nostre zone la paura è tanta e da testimoniarlo è un episodio avvenuto a Salerno nella serata di sabato 19 agosto, quando il ritrovamento nei pressi di Piazza della Concordia di una valigia sospetta ha generato un grande scompiglio. Numerose persone si sono allontanate dal luogo per timore di essere coinvolti in un'esplosione, prima dell'intervento degli artificieri che hanno fatto brillare la valigia scoprendo tuttavia che al suo interno c'erano solo indumenti. A dire il vero, dopo la strage di Barcellona, anche in Italia immediatamente sono state avviate tutte le procedure necessarie al fine di prevenire eventuali azioni criminali messe in atto dai fondamentalisti islamici. Così, sulla base delle indicazioni del ministro degli interni Marco Minniti, il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, ha riunito nella mattinata di sabato 19 agosto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. All'incontro hanno partecipato i sindaci del territorio ed i vertici delle forze dell'Ordine. Benché al momento non siano state individuate particolari situazioni d'emergenza, l'obiettivo è quello di migliorare la sinergia di tutte le parti in causa, al fine di potenziare la sorveglianza e tutte le operazioni necessarie a garantire la sicurezza, in occasione di manifestazioni sportive, concerti, processioni, insomma, di tutti gli eventi caratterizzati da un grande afflusso di persone. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta anche ai siti di interesse turistico, ed anche a luoghi come l'aeroporto di Ponte Cagnano, la stazione del porto di Salerno. Non escluso inoltre che in particolari posti vengano installati dissuasori di velocità. Aspetto interessante dell'indirizzo tracciato concerne il ruolo che dovrebbe ricoprire la Polizia Municipale, chiamata ad affiancare Polizia, Carabiniere e Guardia di Finanza, nelle operazioni di controllo del territorio e, in genere, di prevenzione del terrorismo. Tale aspetto ha tuttavia subito sollevato polemiche da parte dei sindacati. Infatti, il coordinamento provinciale FPCGL della Polizia Locale, evidenziato come il personale della Polizia Locale, non abbia tutele né preparazione specifica per espletare funzioni di questo tipo. Si attende nei prossimi giorni il provvedimento del questore Pasquale Enrico che darà effettiva attuazione alle disposizioni delineate nel corso dell'incontro.